Sicuramente abbiamo pagato un po' il mese e mezzo che venivamo giocando, però non dobbiamo trovare alibi, adesso subito dobbiamo vincere questa partita e riprendere le ultime 5 prima della sosta. Sicuramente questa partita non siamo noi, quindi sapere che non può succedere ancora una roba come ha successo domenica. Durissima, una partita durissima come tutti dico alla fine, ovviamente dobbiamo fare un approccio importantissimo, pensando anche alla partita che abbiamo fatto questa domenica scorsa, quindi da subito far capire che non succederà lo stesso e niente, però comunque siamo tranquilli perché stiamo lavorando molto bene, quindi questa cosa è un caso isolato che è successo domenica, speriamo di riprenderci bene contro la Cereale. È difficile perché non ce l'aspettavamo, pensavamo che quest'anno era un anno normale come l'anno scorso, alla fine è successo così, però ovviamente per tutti uguali, quindi non ci sono alibi di nessun tipo. Mi hanno trattato sempre benissimo dal primo giorno, è una cosa da ringraziare e niente, comunque sapevo dove arrivavo, a questa piazza importante e le aspettative erano altissime e continuano a esserlo, quindi sono contento di essere qua e affronteremo questo che resta del campionato con tutta la responsabilità che ci merita.